La scuola post-covid riparte. Accantonata alla didattica distanza, senza l'obbligo di indossare le mascherine e di rispettare le norme di distanziamento, inizia il nuovo anno scolastico nelle prime sette regioni italiane, secondo il calendario stilato dagli uffici scolastici regionali. A entrare in classe saranno oltre 7.250.000 studenti, 220.000 in meno in soli due anni, segno che l'emergenza de natalità comincia a cambiare anche la fisionomia della scuola, con 3.000 classi in meno, istituti primari decongestionati e classi pollaio alle superiori. Il dato che indica in quale direzione andrà la scuola di domani è quello delle nuove nascite, che nel 2021 sono scese al di sotto delle 400.000 unità. L'anno scolastico che parte oggi sarà anche all'insegna dei rincari. Il Codacons ha stimato che per libri e cancelleria gli incrementi medi dei listini sono del più 7% per i costi di produzione in capo alle imprese del settore, determinati dal caro energia. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e i sindacati hanno però assicurato che il caro energia non peserà sull'andamento dell'anno scolastico, che dovrà essere in presenza e senza giornate in DAD per risparmiare sul riscaldamento delle classi.